Inovation Hub è un'unità organizzativa dell'ufficio tecnico di Salvagli in Italia, di cui fanno parte oltre a me 12 persone. Nasce nel 2019 a Padova, con l'obiettivo di esplorare le possibilità tecniche e commerciali del paradigma Industria 4.0, cercando al contempo di sviluppare sinergie con università e denti di ricerca. Il nostro lavoro è davvero stimolante. Il team è eterogeneo, ricco di esperienze e competenze. I progetti sono innovativi e ambiziosi. È entusiasmante coordinare queste attività e sono certo che raggiungeremo risultati importanti. Internet of Things è in ambito industriale un tema davvero attuale, che si intreccia con l'industria 4.0. Ho visto nascere l'Inx, la soluzione IoT Salvagnini, ed oggi continua a svilupparla e a farla crescere. L'Inx raccoglie i dati dei sistemi installati in tutto il mondo, per ottimizzarne le prestazioni e per migliorare il livello di assistenza verso i nostri clienti. Uno degli aspetti più interessanti del nostro lavoro con l'Inx è la possibilità di seguire tutto il ciclo del dato. Il modo in cui la macchina lo genera, il suo viaggio nel cloud e il modo in cui viene poi esposto al resto dell'azienda, per migliorare sempre più prodotti e servizi. Ma la sfida che affrontiamo quotidianamente per migliorare l'applicazione ci porta a confrontarci e collaborare con colleghi da tutto il mondo, un'esperienza impagabile. Il mio lavoro consiste nel delineare l'architettura e lo sviluppo dei progetti software. Significa cogliere nel miglior modo possibile tutti i requisiti funzionali che il prodotto deve soddisfare e allo stesso tempo raggiungere ottimi standard di qualità, di velocità di sviluppo e di facilità nella manutenzione. Una buona architettura deve supportare la naturale evoluzione del software ed è strettamente legata a buone pratiche di programmazioni. Mi piace anche fare mentoring dei colleghi più giovani, guidarli nel loro sviluppo tecnico. Sembra un aspetto marginale, ma è la chiave per l'ottima cultura e la forte coesione del nostro team. Siamo una squadra giovane, dinamica, multidisciplinare, con tante idee innovative per realizzare prodotti tecnologicamente all'avanguardia. Un gruppo di lavoro così competente è stimolante e lo sono ancora di più i processi decisionali condivisi e il valore attribuito a ogni voce. Far parte di questo team è un motivo d'orgoglio. Grazie a tutti.